Ciao a tutti, siamo questa volta in una zona quasi vicino alla montagna, siamo praticamente a Polcenigo, dove visiteremo un bel sentierino, è abbastanza corto come sentiero, ma secondo me merita molto, è appunto il sentiero di Gor. Praticamente questo sentiero è una specie di sottobosco, dove comunque troveremo molta umidità e spero di non trovare molto fango, anche se comunque sono abbastanza attrezzato. Ecco qua come vedete appunto c'è scritto che il bosco è costituito da diverse specie di catiforie, come carpino bianco, carpino nero, le querce, gli aceri, abbiamo tra l'altro come protagonista di questo meraviglioso sentiero le felci. Questa praticamente è la cartina in cui andremo a percorrere il nostro sentiero. Io poi mi fermerò fino a un certo punto perché poi prosegue e va alla chiesetta Santa Lucia e poi prosegue fino a questo punto qua. Oltretutto in questo sentiero abbiamo anche una bellissima cascata che comunque secondo me è meravigliosa. Sono stato anche l'anno scorso a fare qualche timelapse e fotografia decisamente merita. Bene, non ci rimane che proseguire il cammino e entrare dentro per questo bellissimo stopasco. Per questo bellissimo stopasco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.